Devi per forza andare a sbattere su qualcosa lì Vediamo Marco sta arrivando, Marco è dritto, dovrebbe farci Marco tutti i checkpoints che vedi sono fake Si No 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 Dai giusto Marco è giusto è giusto Ora devi girarti proprio benissimo Occhio campione Ti giuro mi è venuta a cervicare pure il live italiano